E' buon gusto, Fabbro. Ho sempre pensato che Lady Silk fosse la migliore di tutte le ragazze. E tu hai voluto monopolizzarla. Dimmi dov'è Zaini, o ti prometto che non la rivedrai mai più. Per favore. Non è questo il modo di trattare i nostri ospiti? Siamo uomini o siamo bestie? Siamo uomini. Allora, amico mio, non ho mai avuto occasione di ringraziarti per le tue magnifiche armi. Sono impareggiabili. A quanto pare hai lavorato sodo in queste ultime notti e ammirevole. Ma... Su cosa, se posso chiedere? All'inferno. Ascolta, le tue capacità possono esserci utili. Potresti essere una grande risorsa. Se rinunci a Zaini e giuri fedeltà a noi, i tuoi problemi saranno finiti. Ma se rifiuti... Faremo in modo di non farti lavorare più. Tu non sei Godlion. Questo mi addolora. Provo a chiedertelo un'ultima volta. Carboncino... Dov'è Zaini? Questo non avresti dovuto farlo. Dio, non aprova come... No... Purtro, psposto in grado ecco. Occhio, passerà debe! Occhio, sì! Occhio... Occhio, sì! Lo sc Site! Grazie a tutti. Grazie a tutti.